La procura di Arezzo ha disposto la perizia balistica sulla penna pistola che il 37enne finito in manette con l'accusa di aver violentato la moglie Cortona utilizzava come arma personale. L'episodio risale alla fine dello scorso maggio quando il 37enne avrebbe prima aggredito la moglie sorpresa in auto con un amico e poi dopo averla portata con forza in casa la avrebbe stuprata. L'uomo che ha sempre sostenuto che il rapporto fosse consenziente è stato arrestato dai carabinieri di Cortona ed attualmente si trova nel carcere di Terni. Le accuse per il 37enne vanno dalla violenza sessuale ai maltrattamenti e al possesso di armi. Adesso la perizia disposta dalla procura di Arezzo sull'arma ritrovata nella casa dove abitava il 37enne dovrà verificare la funzionalità, la pericolosità e infine la regolarità della penna pistola. In casa dell'uomo inoltre è stato trovato un vero e proprio arsenale, 93 armi da fuoco tutte sequestrate nel corso della perquisizione che però secondo l'avvocato difensore dell'uomo Domenico Nucci sarebbero appartenute alla collezione del padre del 37enne. A giorni infine il legale dell'uomo potrebbe presentare un'istanza per ottenere i domiciliari.